Ragazzi, Brawl Talk, terzo video di oggi dopo due su Rush Wars. Link qua sotto, ho scheda link sopra cliccabile, il primo è il tutorial sul gioco e il secondo è un gameplay su come salire veloci su Rush Wars. Raga, Brawl Talk, finalmente! Vediamo insieme di cosa si tratta, cosa abbiamo, quali sono le novità nuove. L'estate è finita, torna a lavorare. Rip, Ryan. Siamo tornati dall'estate ed eccoci qua, abbiamo delle novità per voi. Vedo già dietro a loro due un nuovo effetto sul terreno e un nuovo Brawler. Dicci un po' Danny, nuovo Brawler, nuove skin e sembra che questo sia proprio Leon e miglioramenti per i punti stellari. Ok, dici un po' di più sul nuovo Brawler. 8-Bit, 8-Bit si chiama 8-Bit. È un piccolo cabinato arcade e va sul campo di battaglia con una pistola laser. Wow. È un super tank, è piuttosto lento. Che ne pensi? Penso sia molto lento, penso sia il Brawler più lento che abbiate mai visto su Brawl Stars. Bello ragazzi, guardate i laser. Sembrano forti però. Wow. La sua super è fantastica, ha una torretta che aumenta i danni degli alleati se si trovano all'interno dell'area di questa. Ecco perché c'è quest'area, quest'area a viola. Qualsiasi Brawler all'interno del team ovviamente, dentro al range, ha un boost per quanto riguarda il danno. Andiamo avanti. Uh, ha 6.000 trofei ragazzi, nella Trophy Road ci sta lui. Olè, gratis praticamente. L'hanno provato in Jam Grab, in Showdown. Che figata ragazzi. Due nuove skin, finalmente. Oh, la community l'ha chiesto. Shark Leon, ragazzi, Leon Squalo, bellissimo. Un'altra skin? Vediamo. Se riuscite a capirlo. Oh, 8-bit classic, ok. Due skin punti stellari. Ma prima vediamo i miglioramenti per i punti stellari. Ok, abbiamo ascoltato il vostro feedback che non si riesce ad ottenere abbastanza, non si riescono ad ottenere abbastanza punti stellari. Più rank, più star points. Ok, buono. Basta premere sull'icona del rank del game e ci sono tutte le info. Su quanti punti stellari riceverete alla fine della stagione. Oh, quindi il golden bow finalmente è più raggiungibile. Star piper skin? Ragazzi, skin punti stellari per piper. Ok? Questo vuol dire che avremo un rimodellamento. Ragazzi, rimodellamento con l'aggiornamento per piper come star skin di piper. Con la nuova skin stellare, piper avrà un rimodellamento. L'ultima skin... Wow! Nuova skin per... Il mio brawler preferito! Per Tara! Wow! Finalmente. Bella ragazzi, carina. Interessante 8-bit ragazzi. Il range è bello grande tra l'altro. C'è anche la torretta al centro, ma che figata! Ma è fantastico, ragazzi. Che bello! Ricordiamoci che è la super questa, ok? Tutti i brawler nel team qui dentro hanno un boost del danno. Bisogna capire quanto è il boost, però. Lo scoprirò presto, raga, con l'update. Cosa ne pensate, raga? Tanta roba! Vi lascio qua sopra i due video precedenti di Rush Wars. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi. Anzi, domani due video. Ciao!